Signore e signori, vi informiamo che state assistendo ad una procedura non autorizzata, ma conforme alle norme di sicurezza. Vi preghiamo di rimanere seduti e di mantenere la calma fino a completo arresto dell'uomo mobile, che è previsto tra 10 minuti. Grazie per aver scelto Aqual City, compagnia di preservativi normali di nuova generazione. È un dispositivo medico CE, leggere attentamente le istruzioni d'uso.